prenda pure gli appunti, quello che vuole, noi entro settembre questi sono costretti a fare la manovra correttiva e le dico anche dove prendono i soldi. Quindi sarà un bagno di sangue? Sarà un bagno di sangue per gli italiani? Metteranno i soldi dall'IVA? Sapete qual è l'ultimo governo che ha aumentato l'IVA? Il governo di Nicoletta. Però loro hanno detto che hanno trovato salvaguardia messe da voi anche sull'IVA per 12 miliardi. Diciamo che ogni anno i governi l'hanno rimandata dopo. Sì, Giretti, però facciamo i numeri. Giretti, fermo lì. Ultimo governo che ha aumentato l'IVA? Governo Letta, 2013. Io non ho mai aumentato l'IVA, Gentiloni no. Benissimo. Clausole di salvaguardia. Tutti gli anni c'erano 10 miliardi di clausole di salvaguardia. Quante sono quest'anno? 26? Diciamo che aumentano le furbate nel sistema per andare a post. Guardi, fino a che aumentano le furbate si legge. Quando aumentano le tasse ci si arrabbia. Io le dico che questo governo aumenterà le tasse.